I migranti, ospiti del centro di Pian del Lago, hanno manifestato stamani per rivendicare i loro diritti. Partiti dal centro hanno attraversato la via Rochester, per poi arrivare in piazza Garibaldi per continuare la loro protesta davanti alla prefettura. Chiedono migliori condizioni, alcuni anche il trasferimento in altre città. Non è la prima volta, già nello scorso luglio, un altro massiccio numero di migranti aveva manifestato alla stessa maniera.